Mi interessa il fatto che a un certo punto arriva uno qua. Questo lo devo mostrare, spero che... sul blog, sul canale YouTube di... eccolo qua, questo anonimo qui, comincia a dire delle bugie su... di nuovo, chi è curioso vada a vedersi il resto. Delle bugie su quanto diciamo e sulla situazione... e inventa il modello danese, bisogna fare come in Danimarca. Dicendo delle bugie sulla Danimarca, non è il fatto che è inutile dire facciamo come in Danimarca, perché se fai come in Danimarca devi diventare la Danimarca, che è una roba un po' complicata, eccetera, eccetera. Ma non è quello. Poi, se poi racconti bugie sulla Danimarca, allora è inutile ragionare. Mi faccio rilevare che è anonimo e dice bugie. Allora, a mio avviso, e questo insiste, con le solite affermazioni offensive, illiberali, cattive, queste stronzate che purtroppo vanno di moda. Allora, qui, due osservazioni. La prima, che è la più rilevante, se guardate, segue un dibattito, prima che io arrivi, qualcuno mi ha mandato il messaggio a un certo punto da guardare, per alcune ore altri intervengono e fanno osservare a questo e ad alcuni che si associano a lui, gli sta dicendo cazzate che i fatti sono altri. Ed è molto divertente. Perché mentre queste persone mettono il loro nome e cognome e riportano i fatti come sono, che poi sono verificabili, basta andare a googlare, andare a cercare sui vari dati, alcune di queste affermazioni le trovi. Cioè, ti so, per esempio, che non esista un salario minimo fissato per legge in Danimarca, è una cosa banale, si trova, basta leggere. Ok? Che esistano altri meccanismi di welfare state, assolutamente, ma non esiste un salario minimo fissato per legge. Bene. Allora, queste, tutte le persone che riportano i fatti come sono, che si possono verificare autonomamente, andando a vedere, è vero quello che ha scritto questo? Vediamo, guardo, 7-8 siti ufficiali che riportano l'informazione e verifico se è vero o falso. Tutti mettono il loro nome e cognome. Tutti quelli che mentono, tutti anonimi. Una cosa, tutti con dei nomi di fantasia. Con un'eccezione, dall'altro lato, arriva uno che si firma a Johnny Selvaggio, Johnny E, che riporta i fatti esatti sulla Danimarca. Il poveretto, anonimo, decide che quello sono io. E questa è una cosa divertentissima. E comincia a dire, qua, sei uno sfigato. Io non sono meno leggero, li chiamo, idioti, anonimi, vigliacchi, buffoni, mentitori. Differenza, no? Fra quello che cerca di dire la verità e racconta i fatti verificabili, mette il suo nome e cognome, quello che ha bisogno di mentire si nasconde dietro l'anonimato. E quando trova, per caso, uno che dice le cose vere, ma ha usato l'anonimato, secondo me quel ragazzo dovrebbe mettere il suo nome, infatti credo di averlo anche invitato a farlo, decide che questo qua è Boldrin che soffre della sua stessa sindrome, la proiezione, no? Deve essere come me e che quindi mi sono fatto il conto, chiamandomi Johnny Selvaggio, ma diavolo si fa chiamare questo qua, per andare a mettere i fatti, come se avessi il problema.